Continua l'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Raggio Calabria, i quali hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del quartiere Argilla Nord di Raggio Calabria, con vivente disoccupato già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre era intento accedere ad un assuntore contestualmente identificato e segnalato all'autorità prefettizia 1,5 grammi di cocaina. Tentando di sfuggire al controllo di polizia, l'uomo è stato poco dopo fermato a bordo della propria tua vettura e colto nell'ulteriore tentativo di disfarsi di un involucro di cellophane contenente 30 dosi in alluminio per un peso complessivo di 50 grammi di sostanze stupefacenti tipo cocaina e la somma in contanti di 350 euro. Dopo una successiva perquisizione domiciliare presso l'appartamento disabitato, grazie anche alla collaborazione dei carabinieri dell'aliquota di pronto intervento, è stato possibile disarconare ed aprire una corsaforta all'interno della quale sono rinvenute ulteriori 200 dosi in alluminio per un peso complessivo di 300 grammi di sostanze stupefacenti di cocaina, 177 cartucce lager, cartucce poi di diverso calibro, due bilancini elettronici di precisione e diverso materiale per il confezionamento. A seguito della convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.